Cosa ci fai a ascoltare ora? Senti, io volevo fare a Maria, ma comunque siamo un po' irritati, volevo far cantare a te. No, non è il caso. E quando tramonta... No, non la conosco. Quando tramonta il suo... Una canzone d'amore... Va bene, faccio un'altra. Un'altra, cosa fai? Nel letto di Lucia. Nel letto di Lucia? Sì, nel letto di Lucia, perché è così, una tavola rotonda che si conclude così, un posto un postano, però ci incontriamo tutti quanti per parlare e per discutere. Ma come tavola rotonda è interessante. Sì, sì. Penso che ci sarebbero molti partecipanti. Nel letto di Lucia. Nel letto di Lucia. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.